Hey Warriors! What's up? I'm going to be here for a new video I don't know, spero di aver detto per me Scusate, mi sono fatto un po' sonnato, mi sono fatto 12 ore di sonno e credo non mi faccerò bene perché sono più assonnato di prima credo che io devo farmi solo 8 ore di sonno se ne faccio di più quindi yes, se mi vedete con gli occhi un po' abbottati oh mio dio, per addormentarmi in video probabilmente è quello allora, so che ieri avevo detto che non avrei registrato ma diciamo mi sono sentito un po' in dovere di fare questo video più che altro per ringraziare un po' tutti per i messaggi ieri sia gli amici tipo Dido, Naux, eccetera gli hanno mandato bellissimi messaggi e li ringrazio tantissimo e ringrazio tantissimo anche tutti quanti voi per i messaggi di ieri e più che altro faccio questo video oggi, non registrerò una mazza uscirò con Silvia, la signora Hexen, mi rilasserò, farò altro e in caso domani registrerò di nuovo come stavo dicendo però oltre a ringraziare tutti quanti voi per i bellissimi messaggi di ieri volevo spiegarvi alcune cose e soprattutto anche perché ci ho riflettuto molto ieri mi sono fatto una bella penica poi c'è stata la live ringrazio tutti quanti le persone che nella live hanno scritto bellissimi messaggi perdonatemi non ero esattamente attivissimo celebralmente quindi se magari non ho ringraziato in live lo faccio ora ovviamente si è attivata la messa a fuoco automatica vaffanculo Logitech come stavo dicendo comunque perdonatemi sto perdendo il filo del discorso in un minuto l'ho già perso due volte purtroppo sono diciamo stanco eccetera oggi mi rilasserò tantissimo comunque volevo spiegare un po' di cose perché ci sono alcune cose che sono state malinterpretate altre che non sono state ben capite eccetera premetto che il video di ieri nonostante l'abbia scritto in descrizione molti di voi la descrizione non la leggono devo menare timmi ogni volta voi non leggete la descrizione io meno timmi quindi a parte qualche sadico bastardo leggete la descrizione salvate un timmi cazzo dicevo nonostante l'abbia scritto in descrizione non chiuderò il canale dato che qualcuno di voi aveva il dubbio che potessi chiudere il canale no non chiudo il canale voglio dire se avessi voluto chiudere il canale l'avrei chiuso molto tempo fa non lo avrei fatto di certo per qualche messaggio un'altra cosa che è stata malinterpretata è il genere di messaggio per cui ieri me la sono presa parecchio non me la sono presa per messaggi del genere rex stai copiando tizio caio sempronio oppure non stai facendo video come prima quel messaggio non mi fa incazzare non mi fa arrivare al punto di rottura diciamo come quello che è successo ieri al massimo possono un po' irritarmi soprattutto se li vedo scrivere da gente che reputo abbastanza intelligente da poter evitare determinate puttanate ma comunque diciamo che i messaggi che mi sono arrivati ieri sono stati di ben altra natura e parlo di messaggi perché determinate persone non scrivono commenti pubblici mandano messaggi quindi diciamo stiamo parlando di messaggi privati non dirò cos'era il contenuto del messaggio non dirò chi l'aveva mandato non tanto per la privacy quanto perché è inutile stare a rivangare le robe è stato un periodo un po' difficile diciamo che non è che ho mai avuto periodi facili in 24 anni ci sono stati periodi molto più leggeri di altri ma periodi facili su questo ho parecchi dubbi ma in ogni caso diciamo che queste due settimane sono state un po' più stressanti del necessario per me sia per fattori esterni ma anche interni a youtube che mi hanno fatto arrivare quasi diciamo al punto di rottura ecco mettiamola in questi termini diciamo che i messaggi che mi sono arrivati ieri hanno dato il colpo di grazia diciamo alla situazione diciamo per fare un paragone filmico è come quando Neo nel primo Matrix schiva i primi proiettili però poi un paio li prende io diciamo che per 4 anni ho schivato svariati proiettili altri alcuni anche di youtube stesso se capite il riferimento però prima o poi qualche colpo lo incassi anche perché era diciamo parecchio personale come riferimento ed era diciamo non ho ben capito il perché di determinati messaggi ripeto determinate persone immagino siano cattive dentro o bastarde dentro a seconda di come la si vuole mettere perché erano messaggi che tecnicamente si riferiscono a gente che magari ti ha veramente ucciso la madre cosa che credo di non aver fatto a meno che le vostre mamme non seguano i miei video e non si siano suscitate per il cambio di format non credo di aver ucciso qualche mamma o qualche animale domestico a seconda che siete animalisti o meno quindi diciamo che determinati messaggi sono stati scritti piuttosto male e soprattutto per i motivi sbagliati ma diciamo che il loro contenuto era abbastanza fortino molto fortino non abbastanza ma molto fortino molto personale e mi ha colpito abbastanza detto questo molti di voi si staranno chiedendo quindi ora cosa accadrà diciamo allora mettiamola in questi termini non credo continuerò il format che ho iniziato ieri e stoppatevi un attimo non iniziate a scrivere rex e non cambite ogni due minuti state a sentire il perché non sto chiudendo quel format per diciamo quello che è successo ieri o quantomeno non è la motivazione principale per cui non continuerò quel format mi sono reso conto che per fare quel format mi ci sono volute 13 ore ci sono volute 13 ore di lavoro per buttare giù quel video perché sono due ore di registrazione di oblitus più un'ora di modificare dell'audio e 10 ore per creare proprio effettivamente all'interno di premier quel video quindi sono circa 13 ore complessive per creare un video solo per il canale è stato un bel bucio di culo è stato un bel lavoro e non posso dire che non mi abbia divertito perché mi diverte montare in quel modo però è anche stancante il problema è questo se io devo stare 13 ore del mio tempo a montare un video per quanto bene lo possa montare nonostante ieri c'erano delle pecche tecniche proprio tecniche tipo delle voci in sottofondo che non si sentivano eccetera quindi eliminati i guzzi personali ieri c'erano delle effettive pecche tecniche però per quanto possa montare bene questo video se poi devo caricare un video che mi ha richiesto parecchio tempo parecchia fatica e una notte insonne per vedermi gente che si scanna nei commenti preferisco non farlo anche per la mia sanità mentale vorrei mantenere un minimo di sanità mentale quella che mi rimane dopo aver giocato ai giochi che mi consigliate voi vorrei mantenere quel minimo di sanità mentale quindi se devo perdere 13 ore della mia giornata per vedere gente che si scanna nei commenti io che mi devo scannare nei commenti con altra gente perché molte persone hanno mal compreso il perché facessi questi video preferisco non farlo preferisco continuare come ho sempre fatto nonostante probabilmente monterò anche un pochino gli altri video non lo so dipende immagino dal video mettiamo anche un altro puntino su lei molti hanno mal compreso quando io ho detto che mollavo le serie quelle lunghe non è che a me non piaceva registrarle qualcuno veramente mal compreso pensando oh allora ci hai mentito tutto questo tempo registrare no non vi ho mentito perché se no non avrei manco detto che le avrei fatte in live o sul canale delle recensioni semplicemente penso che ogni persona ogni tanto abbia la voglia di modificare se stessa o quanto non modificherei se stessa sembra un cazzo di cyborg nel senso di tentare di migliorare se stessi molte volte anche sbagliando perché io ho passato 24 anni della mia vita facendo prove su prove in generale su tutto molte volte sbagliando completamente e dovendo ritornare sui miei passi ma non parlo solo di youtube parlo di un sacco di robe quindi io diciamo che per come la vedo io la vita va vissuta e va anche cambiata alcune volte o quantomeno bisogna provare a cambiare quantomeno per dare un po' di brio alla situazione rimanere sempre statici sulla stessa cosa non la vedo una buonissima cosa per youtube è ottimo infatti una cosa che molti non hanno compreso è che modificare il format non è un bene per il canale non è mai un bene per nessun canale faccio un esempio basta vedere i canali che si basano su minecraft se cambiano minecraft non fanno più una visual è normale perché sono canali che si basano principalmente su minecraft quindi cambiare il loro format non giova come canali che si basano che ne so prettamente su lol su airstone su queste cose quando provano a fare altro non fanno una massa di visual basta andare a vedere i canali tipo di trump eccetera di pro player di airstone per dire molti infatti hanno veramente mal compreso questo messaggio pensando che io avessi potuto cambiare format perché volevo diventare più famoso non era assolutamente il motivo principale diciamo se veniva ben venga a me mi fa piacere se il canale diciamo si inalza ad alte vette di iscritti sia perché diciamo giova a me perché parliamoci chiaramente papale papale io ci guadagno da youtube quindi se faccio un alto numero di iscritti un alto numero di visual per me è tutto tutto di guadagnato sono tutti i soldi in più sono bollette che posso pagare un po' più tranquillamente e posso avere una non so un benessere economico un po' più tranquillo diciamo se il canale aumenta di iscritti non vi ho mai nascosto niente quindi mi sembra subito non dire anche questo ma è una cosa ovvia la sanno ormai un po' tutti e vi dirò la sincera verità a me non non era convenuto fare quel video proprio a livello tecnico a livello di visual e iscritti e soldi non è convenuto per niente fare quel video cioè a me sarebbe convenuto lasciare tutto come stava non fare un cazzo e avrei guadagnato il triplo di quello che ho guadagnato con il video di ieri ve lo dico sinceramente a me non era convenuto fare quel video ma l'ho fatto lo stesso pensavendo che ci avrei guadagnato un terzo se non anche meno perché poi ovviamente dipende dai video che escono durante la giornata ma io sapevo benissimo che ci avrei guadagnato molto meno io in questi giorni in cui non sono usciti i video non sono usciti perché stavo tentando di lavorare ad altri progetti tipo quello di ieri di Oblitus quindi io l'ho fatto ben sapendo che ci avrei guadagnato di meno ma non me ne è fregato un cazzo quindi tutto il fattore tu l'hai fatto per i soldi eccetera per svendere il canale eccetera sono commenti da cui mi sono entrati e da cui mi sono usciti perché sono leggermente irritanti ripeto dette soprattutto da persone che so che hanno un minimo di cervello per poter capire determinate cose quindi non lo so per me mi sembravano ragionamenti ovvi purtroppo molte persone non hanno fatto dei ragionamenti abbastanza ovvi e si sono sperticati con dei commenti demenziali visto che ormai ripeto cani e porci sanno più o meno come funziona youtube ve lo dico sinceramente se io avessi voluto svendermi ok e fare un canale solo per le visual farei solo react nonostante mi piaccia fare i react lo dico adesso prima che qualcuno nei commenta nei commenta oh jesus christ l'italiano prima che qualcuno nei commenti possa dire allora fai i react per le visual no lo faccio perché mi piace però per dirvi i miei video reaction fanno molte più visual rispetto a tutti gli altri video che porto sul canale soprattutto quando sono di contenuto pornografico il che mi fa capire che razza di sporcaccioni voi siate nonostante di te altro ma siete veramente degli zozzori quindi tolto questo a proposito non so se l'avevo fatto vedere questo è il mio spirito natalizio questo è il mio addobbo di natale eh avrei voluto mettere un ambria e magica ma la signora rex ha voluto ha detto no no tu almeno un albero te lo prendi ok sei il mio albero quindi ok ma a parte sta puttanata ripeto se io avessi voluto svendermi avrei fatto react prettamente solo quelli avrei fatto un canale solo su react e non è che non me l'hanno consigliato ho avuto gente non voi iscritti intendo altra gente persone che conosco eccetera che mi hanno consigliato di fare solo quelli perché ti rende fai solo quelli tanto alla gente che prettamente quelli interessano ho detto no beh perché interessano anche altre cose quindi diciamo ho continuato anche a fare le serie quelle lunghe eccetera perché mi piace farle a me piace registrare serie lunghe con una trama eccetera molti molti hanno anche mal compreso quello probabilmente è stata anche colpa mia perché mi sono anche un po' spiegato male in realtà ripetendo dopo un paio di giorni posso capire che alcuni passaggi potevano essere veramente mal compresi per determinate su determinati argomenti a me piace registrare video lunghi con una trama eccetera semplicemente mi pesava un po' montarli ultimamente perché non sentivo più quel brio durante il montaggio perché comunque il montaggio mi porta via un'oretta di tempo in ogni caso per ogni video anche perché comunque devo ricontrollarli tagliarli in ogni caso aggiungerci cose e per mettere il puntino su lì quella frase su Life is Strange nel sottotitolo l'avevo aggiunta io mi sembrava ovvio calcolando che era una frase totalmente al di fuori della trama e con un altro font ma ci sono state persone che hanno veramente pensato che i traduttori della Fenix avessero potuto inserire una frase di quel genere sul video di Life is Strange mi sono ammazzato delle risate a leggere quei colmenti per cioè mi sono immaginato voi che oh mio Dio chi può averlo fatto io sul serio è ovvio l'ho fatto io sono stato io quindi voglio dire alcuni pezzi li ho aggiunti diciamo così il pezzo era veramente cazzone al massimo l'ho aggiunto tanto per aggiungerlo più che altro per fottervi un po' il cervello e a quanto sembra ci sono riuscito però vabbè a parte tutta questa roba se no veramente qui non riusciamo più comunque nonostante questo io devo comunque tagliare parti eccetera e farlo su un video in cui non ci lavoro più di tanto ovvero il lavoro non va più in là del taglio diciamo non devi fare un lavoro al di là del taglio e cucito del video diciamo dopo quattro anni ti cadono un po' le palle all'ennesimo video che monti in quel genere diciamo in quel modo nonostante ripeto mi diverte comunque registrare video perché è divertente è anche più facile cioè non lo metto in dubbio molti di voi pensano che sia più facile non so in che modo lo pensiate ma qualcuno ha seriamente pensato che sia per me più facile fare il video di ieri di Oblitus rispetto a che i video delle serie lunghe no i video delle serie lunghe mi richiedono un'ora e mezza di tempo al massimo per essere registrati montati e messi su youtube quello mi ci sono potute 13 ore di tempo quindi no no non è più facile fare quel tipo di lavoro semplicemente ogni tanto ho la voglia stupida magari non lo metto in dubbio magari qualcuno di voi la può vedere anche come una voglia stupida però ho questa stupida voglia di rinnovare un po' me stesso anche non dico proprio di rinnovare completamente alcune volte non ho rinnovato in determinati modi i video semplicemente ho tentato di non lo so fare altro giusto per alleggerire il cervello o comunque smuovere un po' le attività celebrali perché fare sempre la stessa cosa ogni giorno e non parlo del registrare il video parlo proprio del montaggio io fare ogni giorno lo stesso tipo di montaggio mi fa sembrare la mia attività su youtube che ormai è un lavoro però è allo stesso tempo è anche un hobby è un divertimento farlo diventare un lavoro da catena di montaggio monta il video taglia qui 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 ok metti quest'altro video taglia qui 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 youtube metti questo video taglia qui 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 su youtube diciamo che dopo mesi 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 anni ogni tanto ho anche la voglia di fare altro quindi ho sbagliato io premetto ho sbagliato io nel fare il video mollo tutto non che non pensassi quello che ho detto lo penso tuttora su svariate cose nonostante ripeto mi si è espresso male per determinate tematiche ho sbagliato diciamo a farlo di netto cioè io ho fatto veramente un taglio netto e quello è stato un mio errore perché ormai è risaputo che le cose bisogna darle a piccole dosi ormai lo sanno tutti io lo so da anni però non so perché non l'ho fatto qui non chiedetevi il motivo è stato demenziale da parte mia ma si avrei dovuto farlo a piccole dosi come passaggio l'ho fatto tutto insieme tutto di botto e molti hanno reagito male non so che cazzo sia successo ma c'è un bambino corvo che ha urlato qui sotto non so se si è sentito ma è partito uno strillo da sotto il palazzo non so che hanno ammazzato non so avranno stritonato le palle a un bambino I don't know c'è strana gente qui sotto a casa mia alle volte veramente no no sul serio c'è veramente strana gente sotto a casa mia quindi I don't know potrebbe sul serio essere un bambino corvo per quello che ne so ma in ogni caso a parte perché mi dovete distrarle lì fuori porca puttana Timmy digli qualcosa menali che menali sei irratitico non ti dobbia mangiare da mesi ma provaci quanto vero morirai nel tentativo al massimo la cosa divertente è che ogni volta che io parlo con Timmy guardo un angolo della stanza vuota dove non c'è nessuno e ogni volta che ci ripenso dico ok questo è il momento di farti internare da qualche parte perché stai parlando a un muro stai parlando a un muro dove non c'è niente questo è quello che mi provoca youtube quindi ok come potete vedere sono anche molto più rilassato rispetto a ieri cristo santo non finirò più questo video non finirò più cazzo spero che vi avete resistito fino adesso comunque comunque taglio corto taglio cortissimo non so se ho terminato il punto che stavo dicendo prima perdonatemi sono stacco sto parlando a un angolo vuoto della mia stanza facendo finta che ci sia qualcuno e ho perso completamente il filo del discorso non mi ricordo più neanche che stavo dicendo bravo rex bravo quindi comunque tagliamo corto tagliamo le gambe al toro tagliamo le gambe a qualsiasi altra cosa tocchi tagliare le gambe mettiamola così ci saranno credo un paio di video al giorno da non da domani perché domani non ci saranno video diciamo da dopo domani ci saranno un paio di video al giorno non so in che quantità metterò le serie quelle lunghe vi dirò la sincera verità credo che sarà a seconda di come mi girino i coglioni voglio solo farvi una richiesta arrivato a questo punto io non ho mai fatto credo a parte un paio di volte in quattro anni di youtube richiesta a voi iscritti ne voglio fare una abbastanza seria con voi voglio farvi una richiesta molto seria se vi interessano veramente le serie quelle lunghe a voi vi piace seguire la trama di un gioco e vedere come io seguo quel determinato gioco perché si ripeto ho anche io mal compreso determinati messaggi che mi sono arrivati ripeto perché le settimane erano stressanti eccetera c'è stato tutto quel video di Shadow of the Colossus eccetera quindi probabilmente io ho mal compreso determinati messaggi che mi sono arrivati e che alcune persone mi hanno fatto capire nei video di ieri e dell'altro ieri quindi se a voi vi piace veramente vedere come io seguo una trama gioco a un gioco e come io vivo un gioco e voi volete vivere questo gioco con me io sono ben contento di questo sono veramente contentissimo di questo però l'unica richiesta che vi voglio fare guardatevi i video e fermi non vi sto dicendo datemi visual gratis se vi dovete vedere un video di 20-30 minuti anche se non vi va 15 secondi del vostro tempo se la serie non vi piace e non vi interessa vedete i primi 15 secondi del gioco perché in caso vogliate giocarlo tanto nei primi 15 secondi non faccio un cazzo faccio solo la intro se il gioco non vi interessa 15 secondi sono dentro quindi non vedete proprio il gioco però se vedete 15 secondi diciamo di video c'è comunque contata la visual io voglio vedere da parte vostra non tanto la visual per il livello monetario e so che qualcuno l'avrà già pensato vi leggo nella mente porca puttana so che qualcuno già l'ha pensato io non dico per un mero livello monetario ok tiriamo fuori il lato dei soldi lo sto dicendo perché voglio vedere un diciamo da parte vostra un certo tipo di coinvolgimento che ultimamente a parte qualche persona tendevo a non vedere più all'interno dei video quindi se a voi interessa veramente seguire le trame e i giochi vedetevi almeno 15 secondi del video di almeno ogni video di serie lunghe che carico 15 secondi sono 15 secondi del vostro tempo quindi tanto li avreste usati per farvi una pippa immagino quindi togliete 15 secondi alle vostre pippe giornaliere e guardatevi i primi 15 secondi del video in questo modo posso comunque capire che da parte vostra c'è una certa intenzione a vedere determinati tipi di trame poi potete comunque consigliarmi dei giochi e comunque io probabilmente prima o poi farò dei giochi che a voi interessano ma voglio vedere un certo livello di coinvolgimento in più da parte vostra anche per me fatelo anche per me porca puttana diciamo mettiamola così quindi ecco questa è l'unica richiesta che vi faccio se il gioco non vi interessa o non volete spoilerarvi il gioco fatemi comunque vedere che la serie vi interessa e che comunque volete che io continui a fare determinate cose perché uno youtuber capisce se una serie piace se la gente vuole vedere determinati tipi di argomenti oppure no è solo tramite visual e mi piace i commenti valgono ma valgono relativamente perché su mettiamo caso 3000 persone ci sono 30 commenti non è diciamo un pool effettivo da poter utilizzare per calcolare veramente se alla gente piace o non piace un determinato tipo di video o un determinato genere di video quindi ripeto se volete che io per quanto mi piaccia se io devo lavorare a determinate cose e a voi vi piace vedere quelle determinate cose fatemelo vedere ok dimostratemi il vostro amore per le trame il coinvolgimento eccetera ok perfetto spero che non abbiate mal compreso questo passaggio lo so lo so molti di voi l'avranno non so perché sto facendo questi versi comunque so che l'avete mal compreso spero di no spero vivamente di no e niente termino qui questo video di 30 minuti che ora andrò a tagliare diciamo nei pezzettini in cui mi sono magari ripetuto e niente ci vediamo dopo domani io vado a rilassarmi ad Haiti no magari avessi soldi quando ad Haiti in realtà non c'è a dire nemmeno Haiti a me mi fa schifo Haiti vaffancuorato vaffanculo pure Haiti non so se magari c'è qualcuno che sta ad Haiti quindi adoriamo Haiti Haiti non mi ricordo manco che resta non so serio mi devo andare a fare in chiudere da qualche parte non sto bene non sto bene questo non è una faccia di una persona che sta bene ok no no comunque detto questo prima di chiudere probabilmente da domani non vedrete il video quello quattro lunghi anni e mollo tutto li metterò non elencato perché comunque me lo tengo per me diciamo per rileggermi tutti i commenti più dei del video dei quattro lunghi anni più che quello dei mollo tutto quei commenti sul video mollo tutto non li voglio più vedere quelli su l'altro video me li leggo molto volentieri quindi detto questo io termino questo video noi ci vediamo al prossimo video sempre che va su Rex ciao a tutti bro yay